Allora, vorrei chiedervi, il racconto è estremamente denso, molto intenso, perché comunque racconta di traumi. Vorrei sapere da voi, quando avete letto la sceneggiatura, che cosa vi ha colpito immediatamente dei vostri personaggi? Beh, innanzitutto la storia accomuna a questi cinque ragazzi un forte trauma infantile risolto, dove questi cinque ragazzi sono nati e cresciuti in un paesino della Calabria e tre di questi cinque poi vanno via, crescendo, lasciano il loro paese d'origine per inseguire i propri sogni, cercare di costruirsi una strada e tutto questo gli risulta piuttosto difficile, un po' a tutti loro, compreso il mio personaggio Gianluca, dove questo suo trauma irrisolto comporta che vive in uno stato di disagio mentale e psicofisico piuttosto forte, che non gli permette di vivere la sua vita a pieno, al punto tale che riunisce questi amici che non vede da anni per ritornare nel luogo in cui tutto si è bloccato, quel maledetto giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre. Erano piccoli, è passato tempo, ma è come se quella giornata non fosse mai passata. E leggendo la sceneggiatura, proprio a proposito della tua domanda, mi sembrava che il materiale drammaturgico dei personaggi, compreso del mio stesso Gianluca, fosse così denso e importante per cui provare, tentare di fare un bel lavoro e infatti sono molto felice di aver lavorato su questo personaggio perché era piuttosto complesso, ma io ho voluto bene e quindi sono felice di aver interpretato questo Gianluca. Per gli altri non lo so, cosa vuoi dire? Io so che sei felice di aver interpretato Gianluca, è fantastico, questo si era capito, e infatti è stato, no, a parte con lo slancio partiamo da questo Gianluca che si collega al mio personaggio indirettamente, in realtà fino a un certo punto, il mio interpreto Andrea è quello che mi ha colpito, lui ha fatto un riassunto che secondo me vale per tutti, che è la verità, che non ha senso ripeterlo. Il personaggio di Andrea è il personaggio più innocente, il personaggio che diciamo in un certo senso sarà gli occhi del pubblico, quindi io l'unica cosa che vi posso dire e che mi piace del mio personaggio è il fatto che lui sia una sorta di incompreso nel posto, nel cui ora, in cui sta e quindi lavorare a questo personaggio mi ha stimolato, soprattutto che io sono uno per bene, fumo poco, bevo poco, non mi drogo, e quindi interpretare un ruolo accattivante mi ha stimolato, mi divertono molto questi personaggi e credo sia riuscito, no? L'intervista di Gianluca ne sono pericolosi, no dai, sono molto contento e spero che il mio personaggio mi possa fare emozionare, non posso dire tanto perché sennò vi rovino il film. Io quando ho letto la sceneggiatura ho pensato che c'era una possibilità di raccontare la provincia, una società che sta lì come se fosse un nucleo fuori un po' dal mondo, quindi avevo visto che c'erano molti momenti che potevano essere dei momenti emotivi molto importanti e quindi diciamo che erano, per me, attore, erano possibilità, tra virgolette, gustose, ecco. E quindi questo, io interpreto Cacca Sotto che è questo personaggio che cerco, diciamo sono il messaggero un po' della tragedia che racconto la storia e quindi sono quello che porta a raccontare al pubblico quello che anche non si vede della storia, quindi anche questa era una possibilità interessante per un attore perché comunque faccio la voce fuori campo che è una cosa che non è che si vede spesso, non capita spesso, non capita spesso, non capita spesso, non mi è capitato spesso, non mi capita spesso. Come potete ben notare abbiamo legato molto. Eravamo bambini e mo' siamo adulti, abbiamo legato. C'è qualche film che avete visto che in qualche modo vi ha preparato, partendo anche dalla domanda precedente, cioè la sceneggiatura e tutto quanto, ci sono stati dei film che magari vi hanno ispirato nell'entrare nei panni di questi personaggi? Rispondo io che c'è il microfono perché è proprio una cosa che mi disse Marco Martani, il regista, mi aveva abbastanza illuminato ovviamente, mi vergogno pure un po' a dirlo perché parliamo di un mostro sagre, Tim Robbins, Misty Creaver, soprattutto per i momenti emotivi. Ma guarda io ti sarò sincero, io non è una cosa che faccio sempre questa cosa di doverlo per forza canalizzare in una reference, io penso che gli attori lavorano sui personaggi un po' per immagini, per cose che hai visto, cose che ti sono successe e quindi tutto questo poi a un certo punto si tramuta, si trasforma in un qualcosa che poi andrai a fare, come nel caso di questi personaggi dove penso che ognuno di noi ha fatto un po' un lavoro diverso a prescindere dai film, io ho cercato di lavorare piuttosto su, cioè destrutturarlo da qualsiasi forma di cliché perché poi il mio personaggio è un poliziotto antisommossa, lo vediamo in alcune scene del film in cui questo suo disagio emotivo poi in qualche modo ha sfogo anche nel suo lavoro e quindi cercavo di lavorare piuttosto sul suo fattore psicologico ma senza cercare di renderlo per forza cattivo o per forza, perché una delle prime cose che ci siamo detti con Marco era guarda cerchiamo di non fare una persona fuori controllo ma al contrario cerchiamo di fare una persona che cerca il controllo e che si nervosisce proprio perché questa storia di mantenere il controllo non gli sta riuscendo, è che è un po' la cosa inversa e mi sembrava molto interessante Bene Tu sei il terzo Io il terzo, io ne devo, non so, parlerò di un altro film No, 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 a parte gli scherzi un film che subito, appena ho letto la sceneggiatura dopo aver, senza neanche aver parlato con Marco per certe cose che mi ha fatto ricordare è Sleepers perché è la stessa tipo di tematica affrontata in un modo diverso e invece per quello che ho percepito io ho proprio la prima lettura e poi parlando con Marco il mio personaggio necessitava di una ricerca emotiva che andasse un po' al contrario, cioè una persona, un ragazzo che non è stato traumatizzato da un evento che è l'evento specifico di questo film e quindi per colpa di questo evento lui è stato deturpato della propria emotività e di conseguenza anche delle proprie relazioni fondamentali e questa cosa qui l'ho portato poi a diventare in un certo senso un ragazzo un po' borderline non come malattia ma nella società e quindi ho provato tanta compassione per questo personaggio mi piacciono molto questi personaggi perché in realtà mi assomigliano molto come sentimento ma sono gli opposti grandi rivelazioni queste, ti assomigliano molto molto attento a quello che dici perché ti ascolto questo allora, no, no, io non ho fatto niente di grave per fare questo film sono pulito, non ho mai fatto i metodi quelli attoriali tipo Stanislavski quelle cose, no, cos'è quello che tu devi fare le cose per davvero non lo so, non ho mai fatto per davvero io vado nessuno vabbè, io faccio solo le cose per finta fatte bene non mi accada mai questa fase della vita perché potrei rischiarmela forte con delle pene a manganellare nessuno mai nemmeno io ho fatto tutto per finta ma con grande intensità ci hai creduto davvero ci ho creduto, sì come dovrebbero fare il mitico, no, è così ma guarda che siamo bravi, funziona un botto e noi ridiamo perfetto ragazzi, grazie grazie a voi grazie 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 a voi